Torna percorribile dopo 5 mesi di chiusura causata da una frana la strada provinciale del lago di Campotosto che va da Ringo Appoggio Cancelli verso il comune di Campotosto e che darà di nuovo la possibilità alla popolazione residente di accedere ai comuni limitrofi e al capologo di regione in un tempo minore in totale sicurezza. La provincia dell'Aquila ha approvato il 23 novembre scorso la variazione di bilancio e il programma delle opere pubbliche affidando con somma urgenza i lavori di ripristino della viabilità della strada provinciale per un importo complessivo di 128 mila euro. Lavori conclusi in pochi giorni. Il cronoprogramma dell'intervento è stato rispettato, anzi la riapertura arriva con molti giorni di anticipo rispetto alla data preventivata del 23 dicembre ha spiegato il presidente della provincia Angelo Caruso presente all'inaugurazione della strada insieme al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e agli amministratori locali. Dopo le proteste dei cittadini tre mesi fa nella sede della provincia via Monte Cagno all'Aquila per la chiusura della strada che isolava Campotosto rendendo difficili gli spostamenti della popolazione e anche la circolazione delle merci il 17 ottobre scorso si era tenuto un vertice proprio sul posto in corrispondenza dell'interruzione che ha creato disagi agli abitanti di Monte Reale e di Campotosto costretti a utilizzare un percorso più lungo e tortuoso. Ora la strada torna fruibile, importante arteria di collegamento per i comuni montani dell'Alto Aterno verso la città e via di fuga in caso di emergenza come emerso durante il sisma del 2017 e durante il duro inverno dello stesso anno soprattutto appunto nei periodi invernali principali via di comunicazione tra Campotosto e territori limitrofi. Ora bisogna sostenere in tutte le sedi la necessità dei comuni dell'Alta Valle dell'Aterno colpiti dagli eventi sismici degli ultimi anni è l'appello del Presidente Caruso affinché possa rinascere e svilupparsi una nuova economia e la crescita sociale e culturale dell'intera area.